Vendiamo le avi a tutti gli avi, oh yeah, e poi spaventiamo, sereniamo, circondate dai accettatori, oh yeah. Allora ci dobbiamo rendere, oh no, perché i miei assassini siamo, noi europei che prestigiamo gli avi, prendere, prendere. E quindi non ci dobbiamo meravigliare se avevo lice, in Europa e la vita, e se non ci dobbiamo accanto, a tutti gli avi, a tutti gli avi, oh yeah, non ci dobbiamo accanto, non ci dobbiamo accanto, Voi Buongiorno.